Musica Oggi è giovedì 5 novembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17, un cordiale saluto dalla redazione, benvenuti a questo appuntamento con i giornali alla segna stampa che come sempre comincia con l'almanacco, il santo del giorno oggi è il beato Guido Maria Conforte, chi era questo beato? Questo beato che è stato vescovo di Parma e fondatore dei Saveriani, parliamo di un personaggio del 1865 oggi avremo, allora intanto il sole è sorto alle 6.48 e tramonterà alle 16.55 dicevo oggi avremo un cielo variabile con cielo parzialmente nuvoloso lungo la fascia costiera nuvoloso nelle zone interne, con schierite al pomeriggio le precipitazioni saranno deboli e sparse soprattutto nell'entroterra e nelle ore centrali della giornata, le temperature sono in aumento eventi di brezza leggera da nord, il mare sarà poco mosso, come sempre attenzione alle foschie di questo periodo dei locali banchi di nebbia. Per domani venerdì 6 novembre il tempo migliora con temperature in diminuzione le minime invece in aumento le massime, per sabato vedete c'è il sole, il sole su tutta la costa, qualche nuvoletta soltanto sugli appennini, insomma tempo bello, c'è l'alta pressione, questa espansione dell'anticiclole dell'Azore che garanterà condizioni di tempo stabile per la giornata di domenica e per l'inizio della prossima settimana Allora speriamo che splenda il sole anche in Spagna dove Valentino Rossi se la giocherà tutta c'è l'attesa che cresce spasmodica da parte dei tifosi a parte dell'Italia intera insomma lo raccontano i quotidiani sia sportivi ma anche quelli non sportivi sulle pagine dei giornali, in questo caso il resto del Carlino per esempio, il Corriere Adriatico e il Messaggero che hanno gli inserti su Pesaro, quindi Tavuglia, Tavuglia che si sta preparando a questa invasione di 8-10 mila tifosi che assisteranno nel paese di Valentino a questa gara speriamo memorabile Allora di questo parleremo tra poco, invece la pagina di Fano si occupa della notizia che la caserma dei carabinieri potrebbe essere trasferita o anzi confinata come scrive il giornale nelle cucine della ex caserma dei militari quella intitolata Paolini, insomma scoppia il caso da Paolini Baldelli, fratelli d'Italia, annuncia una interrogazione al governo si tratta di un edificio formato dal solo piano terra e di non facile accesso ai mezzi dell'arma insomma assolutamente inidoneo ad ospitare i carabinieri ai privati invece, dice Baldelli, andrà la parte migliore di questa struttura grande, grandissima che si trova al centro di Fano dove si farà il settore invece residenziale Andiamo invece adesso sull'altra pagina del Carlino perché ieri a Lucrezia c'è stata una rapina tra l'altro non tutti se ne sono accorti perché è stata talmente veloce e light che anzi sottovoce quasi verrebbe da dire un assalto con il taglierino alla BCC di Lucrezia due banditi rapinano i dipendenti all'ora di pranzo il bottino di 15 mila euro come ogni altro cliente, questo signore ha suonato il campanello ha aspettato che si aprisse il bussolotto aveva una barbetta bianca incolta, cappello ed occhiali vestito tendente all'elegante un signore distinto di circa 50 anni che teneva in mano dei fogli di carta scrive il resto del Carlino poi sull'altra pagina invece da Urbino cordoglio per la morte della mamma di Vittorio Sgarbi la signora Rina Cavallini aveva quasi 89 anni avrebbe compiuto 89 anni il prossimo 22 dicembre era nata infatti nel 1926 a Santa Maria Codifiume laureata in farmacia a Ferrara aveva anche insegnato matematica domani ci sarà il funerale alle ore 11 nella chiesa di San Gregorio mentre un'altra mamma questa volta la mamma di Valentino Rossi va con il figlio in Spagna Graziano invece abbiamo detto che è già partito con il pulmino porterà Clara con sé una famiglia dunque in movimento anche questa mattina il resto del Carlino dedica due pagine all'attesa all'attesa poi dietro le quinte soprattutto puntando gli occhi sulla famiglia su quella che è la famiglia di Valentino Rossi Luca Marini in gita scolastica invece salta Valencia c'è anche una dichiarazione del fratellino di Valentino Rossi che dice sono un pilota e le gare di moto mi piacciono molto però preferisco farle in pista piuttosto che guardarle dalla tribuna mentre il caso Dora Chieng è la casa popolare che ha a Ginestretto di Pesaro si parla della sorella dell'ex ministro che ha a disposizione appunto quest'alloggio adesso l'Erap dispone dei controlli su di lei collabora, lavora da mesi a Roma collabora privatamente con l'euro parlamentare del PD e quindi vive nella capitale quindi la domanda è questo alloggio Erap insomma visto che c'è tanta gente che ha bisogno andiamo sul Corriere Adriatico perché si parla della Polizia Provinciale sono 7 su 22 i dipendenti che oggi sono a rischio il Presidente della provincia Tagliolini modifica il decreto e i sindacati adesso sono sul piede di guerra anche perché insomma c'è questo dubbio sul futuro di questi 7 operatori le organizzazioni sindacali hanno appreso solo informalmente dalla provincia che ha individuato le sorti di questi 22 operatori di polizia la Regione infatti non ha acquisito in toto il personale della Polizia delle Provincie Marchigiane e ora il destino di questi agenti si sta dividendo con soluzioni non buone per tutti anche qui poi sopra a centro pagina in evidenza Valentino come Raffaello e Caravaggio Sgarbi, Lucchetti, Magnini, tifosi eccellenti può farcela dicono da solo è uno dei più grandi della storia la gara è più che mai aperta e può accadere di tutto mi aspetto che vada come ognuno di noi si augura capace di intendere e di volere invece la sentenza e la dichiarazione dello psichiatra la perizia psichiatrica su Igli Meta definito anche psicopatico timoroso Igli Meta è omicida reo confesso dell'atroce delitto di San Martino in Selvanera in cui ha trovato l'orribile morte il 19 luglio scorso il 17enne Ismaele Lulli di Sant'Angelo in Vado personalità immatura condizionata da timori di inferiorità insomma si tratta secondo la perizia psichiatrica di un soggetto debole a Fossombrone attenzione perché il servizio idrico verrà interrotto oggi per consentire la pulizia dei depositi a Isola di Fano dalle 9 alle 14 in località Caspessa dalle 14 alle 18 domani invece sarà la volta di Torricella dalle 9 alle 18 l'ordinanza di divieto di uso dell'acqua in via cautelativa del 15 ottobre emessa dal sindaco per l'acquedotto di San Pietro in Tambis causa il superamento del valore dei coliformi ed è stata revocata il 26 ottobre vale a dire 11 giorni dopo mentre sulla pagina di Fano del Corriere anche qui in evidenza il destino della caserma dei Carabinieri la caserma nell'ex officina interrogazione parlamentare di Meloni sul trasferimento della compagnia alla Paolini spunta un affare immobiliare sì, i più attenti avranno notato il Carlino parlava di cucina qui si parla di ex officina insomma è la parte diciamo è una parte di questo fabbricato sul retro dell'ex caserma Paolini dove una volta c'era la cucina la palestra e c'era anche l'officina quindi diciamo che è il titolista che ha voluto puntare più sulla cucina perché fa più effetto che l'officina insomma è una scelta così comunque ecco la zona è quella lì il segretario Baldelli segretario di Fratelli d'Italia segnala certamente l'ineguatezza del fabbricato per le esigenze istituzionali e di sicurezza da sempre l'ex Paolini l'ex caserma oggetto di appetiti edilizi ora lo ricordiamo è un parcheggio passa la delibera invece l'ira di Seri il sindaco di Fano noi persone per bene debito fuori bilancio con le cooperative udici e progetto Fano stanno con la maggioranza dura reazione del sindaco le parole dei pentastellati che continuano a dire c'è il sospetto di un sistema poco trasparente le anomalie negli incarichi dopo gli esposti non risulta una indagine stiamo parlando delle anomalie della storica gestione dell'ambito territoriale sociale che riguardano gli appalti dei servizi finiti per anni alle stesse cooperative in violazione della legge anche qui in banca spunta il coltello siamo sempre sul corriere poi al cinema il cinema arriva dal 10 dicembre l'appuntamento con gli sbancati due protagonista questa volta sarà il lisippo la statua del lisippo che è stata trafugata ed ora si trova ormai da molti anni al museo di Malibu in California mentre sotto al via il rifacimento della segnaletica stradale lavori per 20 giorni ecco dove qui c'è l'elenco di tutte le vie interessate al rifacimento della segnaletica poi accolti in città Fano i coristi della cappella musicale di Rastat città gemellata città tedesca gemellata con Fano concerti per i 30 anni appunto del gemellaggio mentre la carnevalesca va a ribasso solo due saranno i carri restaurati secondo indiscrezioni nel 2016 la vecchia la metà dei carri respinte le proposte dei maestri carristi l'altra pagina Olio e Oliva apre la mostra a Cartoceto domenica c'è l'inaugurazione con il recital di Antonella Ruggero quindi salgono in cattedrale eccellenza gastronomica del territorio un circuito ricco di iniziative il programma prosegue poi nel weekend del 14 e 15 di novembre poi l'iniziativa per dare una speranza al piccolo Federico affetto dal morbo di crabbe c'è questo appuntamento alle ore 16 doniamo una speranza per Federico l'iniziativa che si terrà domenica al teatrino di San Costanzo per aiutare il bambino fanese appunto malato e questa è l'iniziativa pubblicata sul Corriere andiamo invece adesso sul messaggero San Pietro in valle un tesoro barocco siamo a Fano naturalmente un tesoro barocco restituito alla città Fano oggi c'è l'inaugurazione alle ore 17 la riapertura al pubblico di una tra le chiese monumentali più significative di Fano che si trova in Via Nolfi a centropagina invece vedete la foto di Valentino spero di lottare ad armi pari di poter fare un gran premio normale ha dichiarato ieri Valentino è il campione Agostini si augura che a vincere sia la sportività le pagine interne del messaggero Sanità sulla pagina delle Marche Ceriscioli sui tagli Carlo Renzi dice cerchiamo un accordo sulla qualità il presidente non è una questione dice di un miliardo in più o un miliardo in meno come regione vogliamo riconosciuto il ruolo del risanamento è finito l'Expo si tirano le somme i bilanci 35.000 visite allo spazio Marche sui maxi schermi 22.550 passaggi spot il governatore parla di una sfida vinta sul territorio 120 griffati con il logo milanese la fotografia dell'alza bandiera ieri in piazza del popolo a Pesaro per celebrare le forze armate trova spazio sulla pagina del messaggero in piazza poi la mostra e la cerimonia in prefettura la segnalazione invece di un parco avventura la giungla del bivacco domina il degrado nell'area verde del 25 aprile che nei piani del comune dovrebbe diventare quello di Pesaro una zona ludica attrezzata appena pochi giorni fa erano state rimosse le baracche di via dell'Acquedotto l'assessore della Dora dice adesso vigileremo mentre il partito democratico ha un piano otto comuni sotto una superunione sono coinvolti Pesaro Gabice Monbaroccio Valefoglia Gradare a Monte Ciccardo Montelabate e Tavuglia l'ultima pagina è quella di Fano con l'ambito sociale che liquiderà i primi arretrati alla cooperativa di settore assegnate una trancia delle spettanze in consiglio la delibera passa maggioranza il voto divide l'opposizione di centrodestra intervento del coordinatore Mandolini sulla congruità delle scelte del comune poi Faraone in visita all'istituto Pomodoro oggi Davide Faraone sarà in turno nelle marche per incontrare gli studenti docenti e dirigenti degli uffici scolastici dei territori per parlare della buona scuola poi sotto prende a calci e pugni le auto ferme in fila sono atti di vandalismo si spostano da via Canale Albania a via Roma cambiano i protagonisti qualche giorno fa un pensionato di 68 anni mentre ieri è stato il turno di un giovane ma l'obiettivo è sempre lo stesso cioè le automobili che vengono prese a calci e pugni mentre erano in fila all'altezza del seminario regionale è successo appunto nella giornata di ieri e con questo ci fermiamo qui grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a presto